gite a chilometro zero o quasi a chilometro zero gite non solo naturalistiche gite naturalistiche vedete una un airone vicino all'ex agraria di reggio calabria c'è scuola superiore io mi sono percorrendo il marciapiede del viale calabria e vedo questo airone spettacolare questo qua non so se si è ferito che spettacolare signora guardate qua ma non è un airone voi sapete il numero è ferito ora io con i miei 3200 partecipanti in questa gita ora verificheremo cosa potremmo fare per questo bel airone con questo bel airone ah no vola dipingiamo culo ma sta meglio di noi signora magari pensavamo che stava male invece dipiglia in giro non è scherzare chiaramente l'ho detto in dialetto al reggino che dipiglia in giro chiaramente mi consentirete di dirlo così alla calabrese vedete che bella palma di reggio calabria allora mi sembrava con i miei 3200 partecipanti potevamo fare qualcosa per l'airone invece se la sa cavare da solo meno male perché noi 3200 partecipanti in queste gite facciamo anche un tipo di missione cioè andare ad aiutare dei bisognosi se ne hanno bisogno infatti nei nostri cofani ci sono cibi per cani e gatti cibi per uccelli se eventualmente hanno bisogno avete capito? vi saluto allora 9.49 1 marzo 2024